Giro di Lombardia, fuga a due, con il duplice vincitore del tour Bernadino c'è un giovane la Bianchi Faema, Silvano Contini, che in settembre si è messo in luce aggiudicandosi il Giro del Piemonte e il Giro del Lazio. E tutto sul transalpino e il peso della fuga. In volata, facilmente, non regola il varesino e riporta il successo, un francese a Lombardia ha 23 anni dall'affermazione di Darry Gadd.